Sono Giordano Ferrarese, presidente FIPE per la provincia di Varese e Varese e sono consigliere nazionale appunto della Federazione Italiana Pubblici di Esercizi. Il perché della manifestazione di oggi è molto semplice, siamo veramente allo stremo, non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di ripartire e ripartire subito. Vogliamo vivere, ma il vogliamo vivere è riferito al fatto che noi dobbiamo far rivivere le nostre città, perché tutti si sono accorti che se noi chiudiamo, se noi ci spegniamo, si spegneranno anche le intere città. Ecco perché per noi è importante ripartire e ripartire subito.